Come attivisti, come metap, come cittadini siamo indignati e continueremo a lottare e a chiedere che questa piazza venga messa in sicurezza. Per cambiare siamo a Largo San Giuseppe Artigiano e la situazione è leggermente cambiata, anche se l'igiene lascia molto a desiderare ancora. C'è una leggera recensione, ma si entra facilmente, come potete vedere la recensione è in plastica, parte in plastica e parte transenne. Le griglie sono sempre appoggiate su questo pozzo luce di circa 7 metri, hanno risolto il problema del buco semplicemente spostando la griglia dal centro, hanno tappato il buco al centro lasciando la voragine di lato. Questo è l'intervento che sono riusciti a fare, la messa in sicurezza. Dopodiché sono intervenuti, grazie alle numerose manifestazioni che abbiamo fatto alla raccolta firme, e hanno raccolto un po' di erbaccia. Persiste lo stato di completo degrado, sia esterno che interno, con ferraglia di ogni tipo, arrugginita. La spazzatura, come potete vedere, ha ripreso possesso della zona. Il signor Sinnego ha risposto che è tutto monitorato. Noi continueremo questa battaglia, denunciando la situazione e cercando di ribonificare ancora una volta quest'area, dove ci sono, ripetiamo, scuole e parrocchie.